Su questo versante vorrei solo fare una considerazione in termini di sottolineatura. Io penso che in termini generali e nello specifico su queste materie noi abbiamo bisogno di continuare a costruire puntualmente strumentazioni di monitoraggio perché le scelte che sono state fatte, ne cito due recenti, la vicenda del TFR piuttosto che il tema del credito d'imposta, hanno bisogno di essere lette nella loro dinamica. Cioè che cosa accade, perché accade e che cosa eventualmente va cambiato se su reputa che la scelta fatta non corrisponda all'obiettivo che ci si era proposti.